Ha senso andare ad alternare le braccia in un Carlo a martello? Come vedi in questo caso qua? Come sta andando a fare questo atleta? La risposta è sì, in quanto andare ad alternare le braccia è una delle tecniche più avanzate che tu possa andare a fare per andare ad allenare le braccia. Molto spesso si pensa che le tecniche avanzate sia andare a fare drop set, super serie, in realtà tutta quella roba lì come abbiamo già visto dagli studi scientifici non va a portare ulteriori benefici rispetto ad andare a fare due serie separate e intervallate dal giusto tempo di recupero che è di 2-3 minuti. Quando però invece vai ad alternare le braccia ecco che ottieni il massimo stimolo che tu possa ottenere dal braccio in quanto praticamente andando ad alternare le braccia riesci a reclutare più unità motori quindi riesci ad attivare più fibre muscolari rispetto a quelle che riusciresti ad andare a fare se andassi ad utilizzare entrambe le braccia contemporaneamente. Quindi se vuoi portare avanti le braccia oltre a potenzialmente metterle per prime nel tuo programma di allenamento vai ad alternare le braccia e vedrai che otterrai più risultati. Chiaramente mi raccomando non hai bisogno di andare ad utilizzare altre ripetizioni in quanto i bicipiti non beneficiano dalle altre ripetizioni. Tutte queste informazioni te le faccio applicare nei miei programmi di allenamento e se vuoi portare avanti le braccia c'è il mio percorso braccia dure volume 2.0 che ti fa allenare tutto il corpo sia in palestra che a casa ma si concentra maggiormente sulle braccia e chiaramente te le farà portare più avanti. Il link è nelle storie basta che tu vada a questo link.